Giorgio Sant'Ambrogio è presidente di ADM, apre oggi una delle fiere più importante per il settore della grande distribuzione in Italia e in Europa, marca a Bologna. Allora, lei dal suo punto di vista, qual è la situazione di questo settore che mi sembra che racconti dei numeri molto interessanti? Buongiorno, sì, è la seconda fiera in Europa che riguarda il retail e nella fattispecie la marca del distributore, perché ormai si parla di marca del distributore, non è più una private label il cui obiettivo è quello di fare convenience e di offrire un'alternativa di prezzo al cliente. La marca del distributore è una marca come le marche industriali, tanto è vero che anche l'acronimo con cui noi del commercio vogliamo essere chiamati e ci sentiamo, abbiamo la consapevolezza di essere tali, non siamo più grande distribuzione organizzata e neanche distribuzione moderna organizzata. Siamo l'industria del commercio e come industria del commercio, agli alti e ai bassi, stiamo recuperando, vogliamo delle leggi uguali per tutte tra il retail fisico e il retail digitale e uno dei strumenti principi dell'industria del commercio è appunto la marca del distributore che celebriamo oggi, una marca del distributore sana, una marca del distributore che più di altre è riuscita a entrare, a capire i nuovi bisogni del consumatore, del cliente, della persona, entrando in segmenti emergenti che sono adesso attualmente emersi. Quindi stiamo parlando che la marca del distributore rappresenta più del 40% del settore bio, piuttosto che del chilometro zero, piuttosto che del free from e delle richness. Quindi, in sintesi, l'industria del commercio è un'industria che vale molto e oggi con le relazioni con gli amici di Ambrosetti, enfatizzeremo questo, l'industria del commercio ha un impatto sul sistema paese veramente notevole, decisamente in crescita. Ecco perché dobbiamo valorizzare quello che portiamo e soprattutto valorizzare il comunicare che la marca del distributore, facendo lavorare quasi 1500 piccole e medie industrie italiane, ha un impatto anche sull'indotto delle PMI italiane che altrimenti non ci sarebbe. Quali altre chance avrebbero queste imprese di entrare negli scaffali della distribuzione moderna o di andare all'estero? Attraverso la marca del distributore, attraverso la marca del distributore premium che all'estero è sempre più apprezzata.